La Corte d'Appello di Reggio Calabria e la sezione civile ha emesso un'importante ordinanza che sospende l'efficacia esecutiva della sentenza che dichiarava la decadenza del sindaco di Platì, Rosario Sergi, in seguito alla sua incandidabilità. Il provvedimento segue la richiesta di sospensione avanzata da Sergi, rappresentato dai legali Giuseppe Pitero e Gaetano Liperoti, dopo che l'ordinanza numero 1689 del 2024 della stessa Corte d'Appello aveva accolto l'appello dal prefetto di Reggio Calabria decretando la decadenza del sindaco sulla base della sua incandidabilità. La vicenda si inserisce all'interno di una battaglia legale in cui il prefetto di Reggio, rappresentato dall'avvocatura distrettuale dello Stato, ha contestato la legittimità della candidatura dell'elezione di Sergi a primo cittadino del comune di Platì. Il 10 giugno del 2024 la Corte d'Appello aveva accolto le obiezioni dichiarando decaduto Sergi dalla carica. Poi Rosario Sergi ha immediatamente presentato ricorso in Cassazione chiedendo nel frattempo la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza emessa a giugno. Nel suo stesso ricorso il sindaco ha sostenuto che l'immediata esecutività del provvedimento avrebbe causato un danno grave e irreparabile non solo alla sua persona ma anche al comune di Platì che si sarebbe trovato senza una guida politica nel pieno dell'attività amministrativa in corso. La Corte d'Appello ha ritenuto fondate queste preoccupazioni rilevando che l'esecuzione in media del provvedimento avrebbe effettivamente causato un pregiudizio irreparabile per conseguenze negative per l'amministrazione comunale. Oltre al danno personale a Sergi infatti la Corte ha considerato l'impatto negativo sull'intera gestione del comune che avrebbe subito un'interruzione dell'attività politica e amministrativa in atto. Così con la decisione del 30 luglio la Corte ha quindi confermato la sospensione già disposta in via provvisoria il 2 luglio con decreto presidenziale in attesa del giudizio definitivo della Corte di Cassazione. La sentenza rappresenta un'importante vittoria per Rosario Sergi e la sua difesa che ora sperano in un esito favolevole della Cassazione. Tuttavia resta aperta l'incognita su quale sarà il futuro politico di Platì poiché la decisione finale dipenderà dal pronunciamento della Suprema Corte. La questione delle spese processuali non è stata affrontata in Corte d'Appello. La vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco continua dunque a tenere banco con l'intera comunità in attesa di una risoluzione definitiva. Nel frattempo l'attività amministrativa potrà proseguire almeno fino alla decisione della Corte di Cassazione.